Siamo sul monte Zingomarro, altopiano della Sila, nell'ultima tappa, la quinta, della quarta edizione delle camminate gioachimite organizzate dalla UISP di Catanzaro. Siamo in un posto veramente bello, siamo logicamente reddici da una salita abbastanza impegnativa. Siamo partiti dal villaggio Palumbo che abbiamo di fronte a noi, qui sul lago, eravamo laggiù poco fa e salendo, oltrepassando la via del lago Ampollino che vi sto mostrando, siamo arrivati qui sul monte Zingomarro, metri 1506. Siamo contentissimi, favorevolmente impressionati da questa visione che praticamente stiamo osservando da qualche minuto. Siamo sull'altopiano della Sila Catanzarese e in basso laggiù, anche se con Foschia, c'è il Mar Ionio e tutto il marchesato della provincia di Crotone. Noi tenteremo di ricollegarci più tardi, anche quando arriveremo a San Giovanni in Fiore, che è la nostra meta, dove visiteremo l'Abbazia Florenza, dove è sepolto Gioacchino da Fiore, filosofo abbate vissuto nel XII secolo, a cui sono ispirate le nostre camminate. Noi stiamo camminando sulle orme di Gioacchino da Fiore, per cui la nostra meta sarà l'Abbazia Florenza, dove è sepolto. A più tardi!